La scena del parto in Breaking Dawn Parte Prima è stata girata con un manichino. Avete proprio capito bene, nel penultimo film della saga di Twilight hanno utilizzato un robot per dare l'idea che il personaggio stesse per davvero partorendo. Ma come hanno fatto a girare quella scena? Ve lo racconto subito. Allora, andiamo con ordine, ripartiamo da Breaking Dawn Parte Prima, cioè il film della saga di Twilight in cui si vede il matrimonio tra Bella Swan e Edward Cullen, dopo essere andati in viaggio di nozze in Brasile, Bella scopre di essere incinta e entrambi tornano immediatamente a casa e si rendono conto che nel grembo di Bella sta crescendo un bambino per metà umano e per metà vampiro. Un evento che ha portato il regista, i truccatori, a dover modificare, a dover intervenire sulle sembianze dell'attrice Kirsten Stewart in fase di riprese. Ecco, per girare la scena del parto che ha lasciato sconvolti molti utenti e appassionati, sono state utilizzate un mix di trucco, computer grafica e un manichino con le sembianze di Kirsten Stewart. L'intero cesareo, tra virgolette, è mostrato dal punto di vista di Bella Swan, quindi noi vediamo attraverso il montaggio anche quello che prova la protagonista e vediamo Edward Cullen costretto a far nascere la figlia con i denti, letteralmente. Lo stesso Robert Pattinson ha definito quella scena una delle più disgustose che abbia mai girato, anche perché in un video precedente raccontavamo di come nascono i neonati nei film, non sono bambini appena nati, ma vengono usate bambole, oppure veri bimbi però che hanno almeno 15 giorni di vita. Hanno poi ricoperto il bimbo con crema di formaggio e colorante per dare l'idea che fosse insanguinato. Bella Swan nel corso del film la vediamo sempre più scavata, in volto, sempre più magra. È un mix di trucco ed effetti prostetici. Per girare invece la fine del parto, quindi la scena vera e propria del parto, dividiamola in due parti. All'inizio hanno utilizzato un lettino medico con un doppio fondo, la Stuart era sdraiata con le gambe nascoste sotto il doppio fondo del lettino e con sopra la metà inferiore di un corpo umano di gomma, quindi le gambe e la pancia non erano quelle dell'attrice, mentre la testa e le braccia sì. Inizialmente quindi per girare la prima parte della scena del parto hanno utilizzato il volto e la testa della Stuart, mentre quando muore il personaggio di Bella Swan hanno utilizzato il manichino per intero che aveva riprodotto le sembianze vere e proprie dell'attrice che interpretava Bella. La trasformazione finale di Bella in vampiro poi è stata realizzata con gli effetti della computer grafica che hanno fatto tornare il suo viso roseo e in carne, se vogliamo, anche il corpo ed è stato quindi fatto tutto al computer. Fatemi sapere se conoscevate questa curiosità su Twilight, raccontatemi nei commenti che cosa vi ha lasciato quella scena e se ve ne ricordate altre che vi hanno sconvolto o che magari vi hanno fatto ridere la prima volta che le avete viste. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Ciacca e Azione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità sul fantastico mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!